Oscillano i dati di positività in città e in provincia. In realtà resta stabile a 35 già da parecchi giorni il numero dei positivi a Caltanissetta, mentre invece diminuisce il numero dei ricoverati a 14-15 rispetto agli altri giorni e diminuisce anche il numero dei positivi riscontrati. Il covid report è del 7 di novembre, dunque è della domenica, che è un giorno in cui anche nei giorni precedenti si effettuano meno tramponi dal sabato in poi. Sono 9 i positivi in tutta la provincia, 6 sono di Niscemi, 2 sono di San Cataldo, 1 di Gela, come si diceva c'è stata una dimissione, quindi scendono a 14 il numero dei ricoverati. E poi ci sono anche guariti, 5 pazienti di Gela, 2 di Riesi, 2 di Niscemi, 1 di Butera e 1 di Mussomeli. Arriva a 35, quindi si diceva il numero dei positivi a Caltanissetta, il paese della provincia con il maggior numero di positivi a Gela, sono 66, 62 in quarantena domiciliare e 4 sono ricoverati. 257 sono in definitiva i positivi in quarantena domiciliare presenti in provincia, al report datato 7 di novembre. E intanto sono 17.615 i pazienti che sono guariti dal covid sin dall'inizio della pandemia. Il numero dei pazienti guariti da covid a Caltanissetta sono 3.153.